Grazie a tutti La voglia di fare musica e vivere della nostra passione È diventato poi un lavoro Ed è un disco che racchiude i nostri dieci anni di carriera È il riassunto di tutto quello che è successo in questi dieci anni Da Sole Mio, Grande Amore, Nessun Dorme, My Way e tante altre canzoni Voi avete avuto la possibilità di viaggiare, continuate a viaggiare Anche a esibirvi in posti che sono artisticamente dei gioielli In Italia e all'estero Che cosa accogliete in qualche modo anche dell'atmosfera di quegli ambienti? E in quale città magari vorreste esibirvi in cui non siete ancora arrivati? Cantare nei posti sacri della musica nazionale e internazionale Credo sia un grande onore, una grande responsabilità Ma soprattutto la cosa più importante è cercare di memorizzare ogni momento Cercare di vivere in pieno ogni momento Ad esempio il 6 febbraio canteremo a New York, al Radio City Music Hall È il terzo concerto che facciamo là ma siamo più emozionati della prima volta E questo succede per l'Arena di Verona, per qualsiasi altro concerto Credo sia questo il trucco Di non perdere mai la passione e la voglia di fare musica Questi dieci anni di carriera sono stati strepitosi Successo incredibile Però ci sono anche stati fake news, pregiudizi Come avete vissuto magari i momenti meno splendidi o comunque più complicati? Beh è normale, ci sta comunque quando Che ne parlino bene o male, l'importante è che se ne parli Ed è normale che le gente ne parli e ne possa uscire qualche fake news Però appunto si chiamano fake news perché sono fake, sono finte Quindi non... Ci vuole tanta fantasia comunque Ci vuole tanta fantasia, sì, però sono fake Ma guarda noi siamo tre ragazzi che comunque se ci dispiace quando sentiamo qualche cosa Però ci facciamo scivolare tutto perché alla fine noi sappiamo cosa facciamo, quanto valiamo E di certo delle persone che si inventano delle cose non sono in dovere e in grado di giudicarci Quindi non ce ne frega niente La riassumendo Invece questo Best Of ci sono due inediti Tantissimi grandi successi che rienterpretate Quale sarà il futuro del volo? Tra inediti, cover, insomma cosa puntate? Su cosa deciderete? Sì, sicuramente adesso stiamo puntando sul decennale Della cosa più importante per noi è già partito un tour a maggio dal Giappone E si concluderà negli Stati Uniti Puoi tornare di nuovo in Giappone Quindi per quanto riguarda i nuovi progetti ci sarà sicuramente tempo per pensarci Stiamo cercando inediti, alcuni già li abbiamo E ci saranno delle sorprese Soprattutto per gli inediti Quindi stiamo lavorando duramente per non deludere il nostro pubblico Voi siete, avete fan in tutto il mondo Ma se poteste vivere un giorno da completi sconosciuti Che cosa vi piacerebbe fare? Che non vuol dire atti vandalici Di cui peraltro, quasi fake news Era anche uscito un'ignominia insomma Ma noi siamo tre ragazzi estremamente semplici Viviamo la quotidianità quando torniamo a casa Non limita il fatto di essere popolari No, siamo molto easy Chiaro, si esce di casa Magari se vai a fare la spesa Fai qualche foto con qualche ammiratore Ma questo fa solo piacere Anzi, se non dovessero chiederti le foto Sarebbe abbastanza triste Il vostro successo passa anche dalla televisione Il 19 novembre ci saranno speciali su Canale 5 Come sarà e cosa potete dire? Il 19 novembre verrà trasmesso questo concerto live in Matera Che tra l'altro il DVD uscirà insieme al disco Giorno 8 novembre Abbiamo deciso di registrare questo concerto a Matera Perché l'Istituto Matera è un posto magico Capitale della cultura europea Ogni anno Che è capitale della cultura europea 2019 Ogni anno cerchiamo di coronare E promuovere le bellezze d'Italia Con la musica e con i luoghi suggestivi Che solo l'Italia ha Il vostro genere è stato sdoganato da voi negli ultimi dieci anni Sdoganato In chiave più moderna O comunque più vicino ai giovani Ma ultimamente c'è anche Alberto Urso Che cerca di fare il vostro Che porta alto il genere Tra l'altro l'avevate anche conosciuto Ai tempi di Ti lascio una canzone Se non sbaglio Cosa ne pensate? Lo avete come un competitor Una bella notizia per il genere Insomma Come vivete questa cosa? Guarda Siamo felici che finalmente Molti ragazzi hanno preso coraggio A fare questo genere Ecco Cosa che prima c'era sempre un po' di timore Per i pregiudizi E per non essere giudicati Un bravo ragazzo L'abbiamo conosciuto Quando siamo andati ospiti ad amici Ci può fare solo che piacere Se continua E porta avanti questo genere Ecco Non Io penso che ognuno C'ha lo suo spazio C'ha la La sua fetta di pubblico E E E lo spazio per dare le proprie emozioni E Competitori o no L'importante è che si faccia musica E' quello che conta alla fine Grazie Grazie Grazie